5 ottobre 2021, giornata mondiale dell'insegnante. Siamo qui con la scrittrice Dacia Maraini a cui diamo il benvenuto. Buongiorno a voi. Che augurio si sente di fare agli insegnanti nella giornata mondiale del docente? L'augurio è di appassionarsi, di capire, di stimarsi di più, perché loro devono capire che hanno in mano il futuro del paese ed è importantissimo. Gli studenti ricordano i loro professori. I professori hanno molta, ma molta più influenza sul futuro degli studenti e quindi sul futuro del paese. Quindi non devono pensare che loro non servono a niente, che il loro lavoro sia inutile. Qualche volta, purtroppo, è sottovalutato, ma da parte della classe dirigente. Loro devono capire che invece hanno un potere spirituale, simbolico, straordinario quindi contare di più su questo potere e stimarsi di più, non pensare che la scuola va alla deriva, che non è vero e che se l'istituzione effettivamente è in crisi, loro possono uscire da questa crisi insieme con gli studenti e quindi appunto metterci l'anima, voler bene alla scuola, perché lo merita. L'insegnante, secondo lei, ha perso autorevolezza? No, ha perso autorevolezza l'istituzione scuola, non l'insegnante. Però in realtà gli insegnanti continuano un loro lavoro straordinario nonostante la mancanza di autorevolezza dell'istituzione scuola. L'istituzione scuola negli ultimi vent'anni è stata dissacrata, si è sostituita con l'idea che la scuola debba essere un'azienda e non un luogo di formazione dell'individuo e questo secondo me ha creato delle gravi difficoltà alla scuola, perché la scuola non deve produrre niente, deve semplicemente formare. E questa idea dell'azienda è, secondo me, è stata una perdita secca per la scuola. Dacia, in un suo testo che io ho avuto il piacere di leggere, La scuola ci salverà, lei osserva anche un po' la conflittualità tra il mondo della scuola e quello della famiglia. Come se ne esce da questa conflittualità? Il problema è che, oltre alla politica a essere in crisi, anche la famiglia è in crisi. La famiglia è profondamente in crisi. Il passaggio dalla famiglia contadina alla famiglia, diciamo, della società industriale, in realtà è stato compiuto così, frammentariamente, secondo le volontà personali e la capacità personali, ma manca un'idea condivisa, dei valori condivisi su un nuovo tipo di famiglia. Questo è stato affidato all'individuo e non va bene, perché una società funziona quando costruisce dei valori che vengono condivisi. La famiglia deve avere un'idea di valore, di valori a cui in qualche modo si affida. Poi naturalmente c'è famiglia migliore, peggiore, per carità, ci sono tutti i tipi di famiglie, ma per creare un'unità, un'uniformità ci vuole un codice e il codice è un codice di valori, è un codice etico. Questo in questo momento non c'è. E allora ognuno va per i fatti suoi. Ci sono delle ottime famiglie con ottimi padri, ottime madri e delle famiglie in cui non funziona niente o in cui c'è il principio di autorità, in cui i figli vengono considerati intoccabili, per cui se un insegnante dà un brutto voto si va a minacciare l'insegnante, questo non funziona, non va bene, perché appunto la scuola ha perso la sacralità. Dacia, un'altra questione riguardante un po' la visione di scuola. Il ministro Bianchi di recente ha parlato di una scuola diversa, sia sul fronte della maggiore adesione al mondo del lavoro, ma anche come approccio didattico. Bianchi ha detto mai più corridoi con le porte delle aule chiuse, quindi immagina scuole con classi aperte, con una minore separazione netta tra le discipline. Qual è la scuola che vede Dacia Maraini? Sì, la scuola è cambiata, cioè è cambiato proprio il modo di insegnare, il rapporto fra gli scolari e gli insegnanti, questo è cambiato totalmente. Gli studenti, almeno quello che ho provato e ho visto io, perché io vado moltissimo nelle scuole, sia al nord che al sud, e quello che ho sentito è la voglia di essere partecipi nel processo di conoscenza e di apprendimento. Cioè gli studenti vogliono essere più protagonisti, più presenti, più interni a questo dialogo, che appunto deve essere sempre più dialogo e meno monologo. Cioè il verticismo che era legato a una società fatta in un altro modo, naturalmente una società molto più verticale di quella di oggi, questo verticismo non funziona più e quando si riproduce il verticismo gli studenti scappano. Scappano naturalmente anche simbolicamente nei loro social, in qualche cosa che non è più la scuola. Invece se si vuole che gli studenti partecipino e siano in qualche modo amino la scuola, bisogna renderli molto più protagonisti, molto parte di questo dialogo. E gli insegnanti che hanno capito, secondo me la maggioranza degli insegnanti ha capito benissimo questo perché sono a contatto con gli studenti e gli studenti fanno capire che cos'è che importa loro, cosa vogliono, cosa vogliono loro. E questi studenti e questi insegnanti, quelli che appunto capiscono il nuovo modo di insegnare, secondo me riescono benissimo a creare una voglia di stare nella scuola, un amore nuovo per la scuola e per l'apprendimento. Quelli che invece non hanno capito i cambiamenti e che si affidano a un antico modo di insegnare, secondo me sono destinati purtroppo a fallire e a perdere i loro studenti. Nel libro che ho letto lei parla proprio di sorte ai docenti a non trincerarsi dietro la cattedra, dietro la loro professione. Penso che si riferisca a questo quando parla di assetto un po' verticistico da abbandonare. Sì, infatti dico proprio questo, che gli insegnanti se pensano di essere loro i portatori della nuova parola, se pensano di essere i portatori della conoscenza e che gli altri dall'altra parte, gli studenti, sono ignoranti, incapaci, passivi, ricevitori di qualcosa che viene dall'alto, secondo me sbagliano tutto. E lì perdono gli studenti, gli studenti se ne vanno, anche se appunto, come ho detto, anche simbolicamente se ne vanno, vanno da un'altra parte con la testa. Mentre se uno, un professore invece capisce le esigenze degli studenti e li avvicina, li porta con sé, naturalmente in questo nuovo rapporto dialettico, secondo me lì ottiene molto. I dati invalsi ci raccontano una regressione degli apprendimenti a seguito anche di un ricorso eccessivo che si è fatto nei confronti della didattica a distanza durante la pandemia. Lei che idea si è fatta di come la scuola ha affrontato la pandemia e anche della DAD? Ma in generale, secondo me, gli studenti, anche gli insegnanti italiani hanno risposto molto bene, molto bene. Per quello che ne so io, naturalmente io non faccio statistiche, però vedo in giro, quando vado in giro, vedo che la cosa ha funzionato, però naturalmente è stata una necessità che ha portato a questo rapporto a remoto. Non può sostituire la scuola, la scuola ha bisogno in maniera assoluta della presenza, però in sostituzione, in un momento di pandemia, di crisi del paese, il paese è stato in situazioni drammatiche, non è solo la scuola, il teatro, il cinema, le industrie, i bar, i ristoranti, tutto il paese è stato in questa condizione di non rapporto e quindi la scuola ha dovuto adeguarsi. Secondo me, in maggioranza si è adeguata abbastanza bene, nonostante ci siano come sempre delle persone che ne soffrono molto, soprattutto chi non aveva una casa abbastanza grande per isolarsi, non aveva gli strumenti, magari erano più persone in casa con un solo computer, queste persone sono quelle che hanno sofferto di più. Però in maggioranza, siccome ormai computer o telefonino, i ragazzi ormai hanno tutti, in qualche modo partecipano al mondo tecnologico, hanno reagito secondo me bene, meglio qualche volta degli insegnanti. Dacia, nel suo volume La scuola ci salverà, lei dice non c'è bisogno solo di un investimento economico per la scuola, ma un investimento emotivo ed etico. Cosa intende esattamente? E il modo in cui la società, le istituzioni, la politica, la classe dirigente si rivolge o crea un rapporto che è un rapporto culturale con la scuola. Ecco, quando io ho detto che la scuola è stata dissacrata, dico questo, che ha perso quel tipo di rapporto che è basato sulla fiducia, sul rispetto, anche l'affetto direi, proprio l'affetto, l'amore verso la scuola che è considerato il punto essenziale, l'anima di un paese, il futuro di un paese, è importantissimo perché lì si creano i nuovi cittadini, si crea la nuova società, si creano nuove idee e quindi questo si è perso, secondo me si è perso perché sono state introdotte nuove idee sulle scuole, delle idee secondo me assurde, basate su una società del consumo, una società del mercato, per cui non era importante creare dei cittadini formati, ma creare una scuola appunto come un'azienda che doveva produrre qualche cosa per il futuro, magari dei bravi lavoratori e anche dei bravi compratori, mentre non è così, bisogna creare il bravo cittadino e per quello bisogna investire, ma investire non vuol dire come si fa con le aziende, che si investe per guadagnare, come posso dire gratuitamente, cioè si investe senza aspettarsi niente in cambio che non sia la conoscenza, la crescita culturale, etica di un paese e di una nuova generazione. Questa è la dissacrazione della scuola che secondo me è stata il più grave difetto, la più grave perdita di questi ultimi trent'anni. Dacia, un riferimento anche al suo volume, La scuola ci salverà, lei scrive, lì dove gli insegnanti sono demotivati e disistimano il proprio lavoro, i ragazzi mostrano tutta la loro disaffezione. La domanda è questa, secondo lei l'insegnante italiano ama o disistima il proprio lavoro? Ma è difficile dire l'insegnante italiano perché ci sono tanti insegnanti, migliaia e migliaia di insegnanti e c'è di tutto. Naturalmente alcuni insegnanti sono cinici, sono forse anche scoraggiati, scomportati, frustrati e quindi hanno un atteggiamento così sbogliato oppure poco interessato verso il futuro della scuola. Altri insegnanti, ma quelli che vedo io sono soprattutto questi che sono straordinari perché sono quelli fra l'altro che fanno un'attività culturale, quindi invitano gli scrittori a parlare con i ragazzi, quelli che incontro io sono veramente straordinari. Io li ammiro molto e li ringrazio molto perché stanno facendo tanto per la scuola, perché questi insegnanti, nonostante che siano pagati poco, poco considerati, fanno un lavoro spesso gratuito perché vanno molto al di là di quello che è il loro richiesto dai tempi della scuola e si appassionano ai loro studenti, cercano di coinvolgerli e insieme agli studenti fanno delle iniziative culturali, teatrali, musicali, di ricerca scientifica. Io ne ho conosciuti tanti e devo dire che veramente questi insegnanti creano una risposta straordinaria. devo dire la verità, credo che siano, se non proprio la maggioranza, quasi la maggioranza.